apperelle la formula perfetta per cambiare lavoro attraverso la divisione job diversity apperelle è attiva nella gestione di persone appartenenti alle categorie protette grazie al nostro lavoro di ricerca e selezione le aziende potranno accogliere all'interno della propria struttura quella persona che saprà contribuire con la propria unicità al valore del team siamo fermamente convinti che la diversità fonte di ricchezza per ogni organizzazione debba essere ben modulata e per questo affianchiamo l'azienda cliente in un'analisi approfondita completa del suo business e dei suoi bisogni la divisione job diversity via perelle nata nel 2017 si occupa di supportare sostanzialmente tutte quelle aziende che per l'avventimento dell'obbligo di legge derivante dalla legge 68 del 99 si trovano a dover inserire nel proprio organico dei profili professionali rientranti nelle liste delle categorie protette offriamo inoltre un servizio di consulenza amministrativa per facilitare le aziende nella gestione della parte burocratica mettendo a disposizione la competenza dei nostri collaboratori noi offriamo la nostra consulenza alle aziende in primo luogo insieme a loro verifichiamo il numero di persone di cui hanno necessità secondo la legge italiana 68 99 inoltre cerchiamo sempre insieme a loro di capire quali che possono essere i profili più adatti quindi le persone che possono andare bene per la loro realtà sia dal punto di vista delle competenze e delle mansioni sia dal punto di vista personale quindi cerchiamo di individuare insieme a loro la persona che con la sua unicità può rendere in qualche modo migliore la sua permanenza in azienda garantiamo la massima attenzione alle persone che si candidano alla loro storia e alle loro potenzialità perché possano essere inseriti in un contesto in cui contribuiranno con il proprio valore al successo dell'impresa è molto importante infatti che al di là del mero adentimento dell'obbligo di legge e al di là del mero inserimento lavorativo della persona la risorsa possa risultare produttiva per l'azienda anche per poter tornare la sera a casa dal lavoro soddisfatta per quanto prodotto nel corso della sua giornata il team dedicato alla ricerca e selezione si distingue per la presenza di personale altamente qualificato e sensibile alle dinamiche della diversità l'attenzione la competenza in materia di diversità sono elementi fondamentali che guidano i nostri professionisti nell'elaborare strategie e politiche che promuovano un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso la sensibilità nei confronti della diversità implica la consapevolezza e la comprensione delle differenti prospettive culture e identità presenti all'interno dell'organizzazione questa consapevolezza è essenziale per creare un clima di lavoro in cui ogni individuo si senta valorizzato rispettato per le proprie peculiarità ci impegniamo verso le persone appartenenti alle categorie protette andando oltre l'attenzione alla mansione e all'impegno che saranno richiesti riteniamo importante verificare che l'accessibilità agli ambienti di lavoro sia in linea con l'esigenza della persona e che non vi siano barriere architettoniche di alcun tipo siamo attenti anche al ruolo e alle competenze che le saranno richieste per essere certi che possa esprimersi per quelle che sono le proprie capacità e possibilità aperelle la formula perfetta perché l'unicità di ogni persona trovi una sua valorizzazione concreta nel team di lavoro